Fibri razioni politiche in merito alla vicenda tavica del piano regolatore generale di Gela. Ieri nel corso di una conferenza stampa, i componenti della Commissione Comunale Urbanistica, Cristiano Malluzzo, Guido Siracusa, Vincenzo Cascino, Antonino Biundo e Salvatore Gallo, hanno sottolineato che l'amministrazione comunale è entrata, gamba tesa, in atti di competenza solo della Sise Civica. I consiglieri hanno sollevato dubbi sulla condotta dell'assessore all'urbanistica Francesco Salimitro. Lo abbiamo convocato, hanno detto, essere impegnato a spingere affinché fosse il Consiglio Comunale a valutare osservazioni ed opposizioni. Dopo pochi giorni abbiamo incontrato a Palermo i tecnici che si stanno occupando della procedura del nuovo PRG e veniamo a sapere che l'assessore era andato in visita solo il giorno precedente ed inoltre l'amministrazione comunale sostiene che debba essere la Regione a valutare osservazioni ed opposizioni. Chiaramente non capiamo questa doppia posizione. Noi come commissione, come intera commissione, ci opporremo a questa decisione che è stata presa dalla Regione della trattazione e vogliamo che quella che è la trattazione delle osservazioni e delle contodeduzioni venga portata qui in Consiglio Comunale. Ma non si era detto che il piano regolatore generale qualche anno addietro era già stabilito? Con la ripubblicazione, quindi nel periodo di novembre, nel mese di novembre 2015, tutto rientra in gioco. C'è un Consiglio Comunale che è legittimato dal popolo. La ripubblicazione viene fatta dal Comune stesso, quindi dalla persona dell'assessore Salinitro. Si stava rischiando anche di non pubblicare il piano regolatore, quindi con un'enorme perdita sia per il Comune che per tutto il lavoro che c'è dietro. Ma rientra nuovamente in gioco quello che è il Consiglio Comunale perché il Consiglio Comunale può nuovamente entrare nelle decisioni di quelle che sono le linee da seguire nel PRG. Ma quando questo piano regolatore generale finalmente potrà vedere l'attuazione? Allora, le osservazioni e le contodeduzioni sono numerosissime. Si parla di circa 860 osservazioni da poter analizzare e vagliare una per una. Alcune di queste sono ripetizioni anche di osservazioni fatte con la prima pubblicazione, quindi quasi il 30% potrebbe essere subito scartato. È ovvio, sono parecchie per poter trattare, però il Consiglio Comunale è un organo politico legittimato dalla città e quindi è giusto che scelga quella che è l'espansione territoriale ed economica del nostro territorio. I componenti della Commissione durante il Consiglio Comunale di questa sera proporranno un atto di indirizzo che impegni l'amministrazione comunale ad impugnare gli atti al Tarra di Palermo. Non si può spogliare il Consiglio Comunale di una facoltà indicata dalla legge, hanno detto, senza consentire a noi consiglieri di valutare sia le opposizioni sia le osservazioni al piano regolatore generale.